Gli appelli alla responsabilità sono incessanti, eppure qualcosa proprio non sta funzionando. I segnali non sono positivi. Un'affermazione non certo campata per aria da parte di chi durante l'intero lockdown ha svolto un ruolo fondamentale consegnando dispositivi di sicurezza comune per comune, addirittura casa per casa, dove ce n'era una necessità. E proprio i rifornimenti che in queste settimane si stanno susseguendo fanno credere che la seconda massiccia ondata di contagio non sia proprio soltanto un'eventualità. Attualmente abbiamo ricevuto dalle istituzioni regionali segnali di attenzione. Sono riprese le forniture di dispositivi di protezione individuale. Noi ci siamo messi a disposizione delle nostre due aziende sanitarie, ATS e ASST, per i quali curiamo i trasporti dal magazzino di Rofiera fino qui a Sondrio. E abbiamo messo a disposizione anche la gestione del magazzino per ragioni di spazio. Quindi effettivamente stanno arrivando mensilmente grandi quantità di dispositivi di protezione individuale sia per il volontariato che per gli ospedali. Di oggi anche la notizia che è scattata la quarantena per altre due classi della provincia, una quarta della primaria quadrio dell'Istituto Comprensivo di Sondrio Centro e una seconda, indirizzo amministrazione e finanza, dell'Istituto Superiore Alberti di Bormio, finora il più interessato da casi di alunni positivi al Covid-19 con conseguente messe in quarantena degli altri compagni. Abbiamo ricevuto proprio stamattina la comunicazione di ATS, dunque abbiamo cercato di avvisare per tempo tutte le famiglie dei bambini interessati. Per sicurezza ho aspettato chi non siamo riusciti a raggiungere nel cortile della scuola per spiegare la situazione, racconta la dirigente dell'Istituto Sondrio Centro, Ombretta Meago. Devo dire che le famiglie sono state estremamente collaborative. La loro preoccupazione era soprattutto quella di come, diciamo, sistemare i propri figli in queste mattine senza scuola. Rispetto ai primi giorni dall'avvio dell'anno scolastico, l'impressione è quella che ormai sia quasi inevitabile che si scoprano casi di positività tra gli alunni. Per ora, tutto sommato, con queste quarantene a macchia di leopardo negli istituti, la situazione è ancora sotto controllo. Tuttavia, perché questa resti tale, i comportamenti corretti sono assolutamente indispensabili. La ripresa delle scuole, delle lezioni scolastiche, può essere stato incisivo in questo dato di aumento. E comunque la popolazione deve sapere che le regole semplici e minime, che sono la mascherina, la disinfezione delle mani e la distanza minima, non devono essere trascurate assolutamente. Non ci viene chiesto nulla di complicato e non sono grandi sacrifici.